Sono eroi per caso, cittadini che chiamando il 113 sono riusciti a salvare delle vite. Il questore di Roma ha deciso di premiarli e noi abbiamo incontrato uno di loro. No, io non lo sento. Io ho reagito distinto, è una persona normale, tranquilla, cerco di vivere la vita nel migliore di noi. Diego della Vedova Romano, 23 anni, era al balcone della sua camera quando ha visto uscire dall'appartamento vicino fumo e fiamme. In quella casa c'era una donna anziana che urlava, Diego ha dato l'allarme al 113 e poi ha cercato di entrare dalla vicina per tranquillizzarla. Lei è nata al balcone molto agitata e mi disse che era andato nel corto il frigorifero. Allora io all'inizio ho chiamato le forze dell'ordine e ho cercato di tranquillizzarli insieme ai vigili del fuoco. Io ho aperto le porte di casa mia in modo che loro potranno interagire e tranquillizzare ancora meglio la signora e per fortuna poi si è risorto nel migliore dei modi.